Il killer reo confesso di Michele Buscemi, nipote del boss Michelangelo Stramaglia e di Daniele Di Mussi, uccisi a Valenzano il 13 gennaio 2008, sparò per legittima difesa. La Cassazione ha annullato senza rinvio, riducendo la pena a due anni e otto mesi di reclusione, la sentenza di condanna a carico del 27enne di Acquaviva Luigi Spinelli, detto Gino Il Nano. Secondo l'accusa, e stando al suo stesso racconto, ferì mortalmente i due dopo una violenta lite. A qualche giorno dal delitto Spinelli si costituì spiegando di essere stato costretto a sparare per difendersi. Buscemi infatti era ubriaco per aver bevuto 27 cocktail, tanti quanti erano gli anni di carcere chiesti dall'antimafia pochi giorni prima per l'omicidio del pregiudicato Stefano Camposeo, compiuto a Valenzano il 10 aprile 1999. Buscemi lo avrebbe minacciato di ucciderlo e lui avrebbe quindi reagito. In primo grado Spinelli è stato condannato con rito abbreviato a 18 anni di reclusione per i reati di duplice omicidio, porto e detenzione di armi. La Corte d'Assise d'Appello di Bari, accogliendo le richieste del collegio difensivo rappresentato dagli avvocati Massimo Roberto Chiusolo, Aldo Regina e Michele Dell'Erba, ha assolto Spinelli dall'omicidio Buscemi, ritenendo che avesse agito per legittima difesa e lo ha condannato a quattro anni di carcere per eccesso colposo in legittima difesa per la morte di Di Mussi. La Cassazione ha accolto integralmente il ricorso dei difensori, riducendo ulteriormente la condanna per Spinelli, che non dovrà più scontare neppure un giorno di carcere.